A me DirectLine ha consigliato un amico. E io l'ho consigliato alla mia fidanzata. E io al mio collega. E adesso stiamo più di 500.000 in tutta Italia. Con la mia assicurazione auto risparmio più di 200 euro. Così non rinuncio a quello che mi piace. E in più di domenica la polizza è gratis. L'abbiamo scelta perché ha vinto il premio per i clienti più soddisfatti. Meglio di così. Meglio di così.